Ciao, sono Federica e sono qui in compagna di Alice Leak Cakes e prepareremo oggi i cupcake al cioccolato Che cosa ci serve per prepararli? 60 g di cacao in polvere, 50 ml di acqua, 180 g di farina, 1 cucchiaio raso di lievito in polvere, 1 cucchiaio raso di bicarbonato, 1 cucchiaio 1 quarto di sale, 2 uova a temperatura ambiente, 160 g di burro fuso, 190 g di zucchero e 120 ml di latte Per aiutarci nella preparazione useremo la planetaria con il gancio a foglia, ci servirà un setaccino per setacciare la farina, una spatola per il gelato, una frusta a mano, la teglia per i cupcake con i pirottini già posizionati Procediamo quindi con la preparazione Versa lo zucchero nel burro fuso, amalgama con la frusta Trasferisci tutto nella planetaria e avvia la velocità media Unisci l'acqua al latte Versa anche il cacao aiutandoti con la frusta per evitare di creare grumi Spegni la planetaria Setacci in una ciotola la farina insieme a un cucchiaino di lievito Al sale E un cucchiaino di bicarbonato Sbatti le due uova con la frusta E uniscile versandole a poco a poco al composto di burro e zucchero Riavvia la planetaria a velocità più alta Aggiungi poi il composto di acqua, latte e cacao che hai preparato Aiutandoti per versarlo con la spatola Dopo aver messo a velocità media la planetaria Puoi incorporare al composto anche la farina Un cucchiaio alla volta Rimescola il composto usando la spatola Distribuiscelo poi col cucchiaio da gelato nello stampo che hai preparato con i pirottini E in forna a 170 gradi per circa 30 minuti Eccole pronte Ricordiamoci di farle raffreddare prima di consumarle E in forna a velocità